È chiaro che contro un avversario mediocre come la Paganese oggi mi aspettavo un Gubbio con un atteggiamento diverso, un Gubbio che poteva in qualche modo imporre in maniera diversa il fatto di giocare questa partita in casa e quindi un Gubbio che non concedeva forse il 60-70% di possesso palla ad un avversario come la Paganese che io ritengo sia di mediocre qualità. Grazie